Non è solo il cognome a rendere Christel un nome noto, è il suo percorso unico, che spazia dal design alla musica, passando per la televisione e momenti personali di grande intensità. Ma qual è il vero impatto di crescere all'ombra di due icone della musica italiana? In un mondo dove il talento spesso si tramanda di generazione in generazione, Christel Carrisi si distingue come una stella poliedrica nel firmamento dello spettacolo italiano. Figlia delle leggende Albano e Romina Power, Christel ha saputo crearsi un proprio spazio nel mondo della musica, della moda e della televisione. Prima di scoprire insieme la vita straordinaria di Christel Carrisi, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per non perdere le nostre prossime storie sulle personalità che animano il panorama culturale italiano e internazionale. Nata il giorno di Natale del 1985 a Cellino San Marco, Christel è stata circondata dalla musica fin dai primi giorni di vita. Con due album all'attivo e numerose esibizioni dal vivo, spesso accanto al padre, la sua passione per la musica è palpabile. Ma Christel non si ferma qui, è anche una talentuosa stilista e una conduttrice televisiva che ha saputo conquistare il pubblico in vari formati, dallo zecchino d'oro ai programmi di cucina. Nel 2005, Christel ha partecipato al reality show La Fattoria, dimostrando la sua versatilità e la capacità di connettersi con il pubblico in contesti diversi. Il suo matrimonio con Davo Loxic nel 2016 e la nascita del loro figlio Kate Arron nel 2018 hanno aggiunto ulteriori capitoli alla sua vita ricca di eventi. Un dettaglio forse meno noto, ma incredibilmente significativo, è che la madrina di battesimo di Christel fu niente meno che madre Teresa di Calcutta, sottolineando la statura internazionale e il rispetto di cui gode la famiglia Carrisi. Quanto pensate che l'ambiente familiare abbia influenzato la carriera di Christel? La pressione di mantenere un'eredità così ricca può essere un ostacolo o un trampolino di lancio? Se questa storia vi ha ispirato o se avete pensieri da condividere su come le dinamiche familiari influenzino le carriere nel mondo dello spettacolo, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. La storia di Christel Carrisi è un esempio lampante di come talento, determinazione e un background familiare unico si intreccino creando una carriera variegata e un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo.